Dal mare è rimontato un soffio denso e bruciante. Tutta la mia persona si è tesa e ho contratto la mano sulla rivoltella. Il grilletto ha ceduto, ho toccato il ventre liscio dell'impugnatura ed è là, in quel rumore secco e insieme assordante, che tutto è incominciato. Mi sono scrollato via il sudore e il sole. Ho capito che avevo distrutto l'equilibrio del giorno. Lo straordinario silenzio di una spiaggia dove ero stato felice. Allora ho sparato quattro volte su un corpo inerte dove i proiettili si insaccavano senza lasciare traccia e furono come quattro colpi secchi che battevo sulla porta della sventura. Grazie a tutti.